Scusate, piccola gag, volete una goleador? Una la prendo. Ok, offrire una goleador a dei calciatori mi sembra... Tieni, grazie, capo. No, non ci pagano, non è uno. Ma nel caso in cui voleste pagarci, goleador, abbiamo fatto... Da piccoli queste andavano alla grande. Madonna mia, raga. Poi dopo sono cominciate le diete da calciatore. Che dieta fate? Allora, io sinceramente sono un po' meno attento rispetto a Giorgione qua. Però devi stare un po'... Ma sei in grande forma. Sì, no, no, sono in forma. Però qualche stravizio me lo concedo. Tipo? Tipo, ieri sera sono tornato a casa, mia moglie aveva fatto il tiramisù. Che fai? Non te lo mangi? Poi dipende da che tipo di metabolismo hai, secondo me, no? Da quanto ti alleni. Ma anche il metabolismo, secondo me, cioè... Carboidrati e dolci... Pochi. Un po' meno. Pochi. Tante proteine. Niente pasta. Ma che italiano sei? Infatti ho detto gli altri. Mica io. Io la mangio. Certo. Integrale, la pasta integrale... Poi immagino ci sono quelli quadrati. In tutti i modi. Io sono abbastanza quadrato, ma un bicchierino di vino la sera lo faccio. Però mi immagino... Uno come Cristiano Ronaldo. Lui è molto inquadrato. Mangia un cazzo. Cioè, fa niente. Ho visto... Adesso è uscita la serie. Sì. Su Prime. Posso dirlo perché sono il testimonio, quindi... È uscita la serie della US su Prime e ho visto un paio di robe. E... Mi spaventa a me Cristiano Ronaldo. Cioè, beh... No, mi spaventa perché è... Ma tipo Bugman, un uomo nero. No, perché di una... Dedizione. Poi è un po' la narrazione che si fa. Un po'... Immagino anche voi quando vi cagate il cazzo ogni volta che vi parlano di Cristiano Ronaldo. Deve essere una roba che vi rompono i coglioni. Vabbè, ma l'abbiamo saputo dal primo giorno che è arrivato che sarebbe stato così. Comunque perché... Però effettivamente vedi un uomo che non è un uomo. Cioè, è un... È un... È un essere... Dedicato a... Come l'ha? Un Iron. Cioè, dedicato... Cioè, che addirittura lui ha contemplato nel suo allenamento. Cioè, prendere dieci minuti di sole. Cioè, quella scena di lui che prende il sole. Cioè, dice, io prendo dieci minuti di sole... Facceva piacere. Che ne so, a lui è stare al sole. No, però lui la mette sempre sul piano del fa bene. Che fa bene. Fa bene al mio fisico. E alla mente. Non c'è nulla che lui fa che non sia... Cioè, che non sia propedeutico. Anche io sto bene nell'acqua calda. Bello. Quando entro a 37 gradi ci sto bene. Sott'acqua fa bene. Però non è che per forza fa bene a tutti, no? Tu dici, quando diventi Cristiano Ronaldo, qualsiasi cosa fai diventa... Oh, sta facendo... Magari... Si è tagliato le unghie dei piedi per correre più veloce. Quanta dedizione! Che sacrificio! Però, come raccontata nella serie, sembra che dici, cazzo, pure quando ha un momento libero, prende il sole. Non per prendere il sole. Perché fa bene al corpo per allenarsi. Vabbè, ma lì ci sarà tutto un montaggio spettacolare. E i bambini finirono stionati tra luglio e agosto per prendere il sole alle due del pomeriggio. Ecco, lì immagino, non so quanto possiate parlarne, e se poi esce qua, tagliamo tutto, non vi preoccupate. Rapportarsi con una personalità di questo tipo, umanamente, non solo a livello di squadra, è difficile. Però è più facile del previsto. Dici? Sì. Quando sei in gruppo, poi alla fine, anche seppur diverso, perché è una multinazionale vivente, è sempre parte del gruppo, quindi non... Cioè, è un ragazzo come te. È diverso, però non è che signor Ronaldo, buongiorno, mi scusi, è come se... Ma è ovvio che no, ovvio che no. Gli fai le battute, come posso fare a te, dopo due giorni che ti conosco, o altro, cioè, poi fai come di pari. Io pensavo più che per voi, per lui, secondo me. È più difficile, no? Ma no. Lui si è sempre comportato in modo... Cioè, avrà una narrazione fuori, ma poi alla fine è uomo. Come hai detto te, qualsiasi cosa fa lui, viene enfatizzata, e se parla, qualsiasi cosa dice lui, viene fatta per poi crearci notizia. Quando in realtà è una persona normale, che si impegna nel suo lavoro, che è dotata da madre natura e dal lavoro, che è un fuoriclasse, che rimarrà nella storia, né più né meno. Che poi è un ragazzo normale, che fa fatica, anzi, per certe cose la sua vita sarà anche più difficile della nostra, ma sarà talmente più ricco. Cioè, hai tanti pro e tanti contro. Una passeggiata in centro, non so. Io non riesco a, vedendo la vita che fa, non riesco a provare invidia, perché è troppo fuori, troppo fuori dalla realtà. Cioè, già io mi sento di vivere abbastanza fuori dalla realtà, così. È difficile fare una passeggiata in centro a Torino per lui. Secondo me è difficile proprio instaurare relazioni, rapporti umani, è complicato tutto. Magari diventano meno, ma più di sostanza. Adesso non è un martire, pray for cristiano, però ha i suoi pro e i suoi contro, diciamo.